Musica Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata Gigi McFarlane in concerto alla Giamborè di Barcellona, l'orchestra di chitarra De Faia diretta da Pasquale Scarola. Gigi McFarlane, il suo folk acustico, trasmette emozioni con versioni di altri artisti, storie ed esperienze nei temi. Ascoltiamo l'intervista con Gigi McFarlane. Gigi McFarlane, un ospite importante qui a Barcellona al Mas Mas. Vogliamo subito conoscere la tua carriera e soprattutto ti ricordi il tuo primo concerto. Com'è stato? La mia passione per la musica è presente da sempre. Non ho mai pensato di essere una musicista, una cantante. La vedevo come una cosa impossibile da realizzare. Ora sono molto felice di quello che sto facendo. Mi ricordo il mio primo concerto, cinque anni fa. Tremavo da morire durante il concerto. Una carriera internazionale, ma siamo curiosi di sapere che influenza hanno avuto anche i tuoi genitori, musicalmente parlando. Le mie origini sono complesse. Sono nata a Londra, cresciuta a Minorca da quando avevo sei anni. Mia madre è giamaicana e mio padre è tedesco. Non ho preso niente da nessuno. Da mia madre l'aspetto esteriore. Da mio padre niente. Dal punto di vista musicale niente da mio padre. Siamo curiosi anche di sapere qual è il rapporto con la musica catalana e i musicisti catalani. Che cosa ne pensi? La musica catalana mi piace. I musicisti catalani hanno un bel ritmo anche se non conosco la lingua. Ma mi piace. Non è qualcosa che io farei, ma mi piace. Gigi McFarlane, cantante, chitarrista e compositrice, è nata a Londra da madre giamaicana e padre tedesco. Interpreta temi composti da lei e versioni di grandi successi di artisti come Tracy Chapman, Michael Jackson o Madonna. Dichiara di non aver perso un secondo nel pianificare la sua carriera. Lascia che le cose accadono lungo le rotte della musica nera. Non crede che tutte le culture presenti nel suo DNA siano state particolarmente rilevanti nella scelta del suo stile musicale. E aggiunge che Barcellona è una città cosmopolita e internazionale, anche se non ha molti contatti con i musicisti catalani. E adesso siamo curiosi di scoprire qual è il segreto per interpretare dei successi con la tua personalità. È una domanda difficile. È naturale, mi diverto. Le persone si divertono e mi diverte che le persone si divertano. Bisogna essere se stessi, perché se si è nervosi il pubblico lo percepisce. Ma se sei naturalmente te stesso, credo che sia la forma di portare il pubblico, facile. Quali sono le tre qualità per fare musica oggi, secondo te? Passione, tempo. Oggigiorno non c'è molto tempo. Ed essere felici per quello che si fa. Ti propongono di commentare con la tua musica una colonna sonora di un film. Che tipo di film sarebbe? Credo che sia un film di comodità. Un film di comedia. Un film di comodità che ti piace, ti piace, ti piace, ti piace. E non è meglio che ci sia un film di comodità che si ha presentato. Grazie a tutti Che cosa ti piacerebbe raccontare nel tuo prossimo album? Ho molte idee, ma una di queste Vuoi scrivere una canzone per ogni membro della mia famiglia Ma vorrei farlo con una band in sottofondo Grazie per essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte Grazie a tutti Dietro le Quinte Mi italiano non è molto bene, ma devo dire grazie Grazie a tutti It's ok Pasquale Scarola e Umberto Cafagna Questa sera qui in Vallisa per un concerto dell'Orchestra De Falla Un programma tutto spagnolo, di che si tratta? Quest'anno abbiamo pensato di aprire la stagione con un programma prettamente spagnolo Un repertorio particolarmente brillante, dove appunto il lavoro di trascrizione prezioso del maestro Scarola permette di ottenere degli effetti unici C'è un brano al quale magari lei è particolarmente legato, che suona questa sera e perché? Ma diciamo che in genere le trascrizioni di Albanitz sono effettivamente quanto di più idiomatico ci sia per la chitarra Anche se sono brani concepiti per lo strumento a tastiera, per il pianoforte Nella musica del Albanitz si respira proprio questa atmosfera andalusa, questa atmosfera proprio iberica Che viene resa particolarmente bene dalla chitarra Qual è la difficoltà di dirigere un organico di questa cifra? Bisogna stare molto attenti a trascrivere in un certo modo, altrimenti potrebbe anche diventare pesante un po' all'ascolto per il pubblico Quindi si cerca di variare, di giocare un po' sulla timbrica, di sfruttare al massimo tutti gli effetti della chitarra con l'aggiunto degli altri strumenti Ma Scarola com'è come direttore d'orchestra? Una qualità del maestro Scarola? Innanzitutto molto paziente, molto capace perché ha una grossa esperienza della vicenda musicale Perché lui è passato attraverso tante forme di esperienze musicali che lo hanno forgiato veramente a 360 gradi Una persona che ha una grande concretezza tra l'altro sul palco Un giovane che voglia fare il direttore d'orchestra oggi, qual è il curriculum ideale? Occorre molta esperienza, però non è che basta soltanto lo studio, affrontare le varie esperienze, vari generi musicali Appunto come diceva il maestro Gaffagna Invece per fare il solista e il solista chitarristico oggi che cosa consiglia un ragazzo? Beh, io direi che il percorso è sempre quello tradizionale dello studio in conservatorio Del fatto di formarsi piano piano, di avere maestri di qualità E di fare esperienze progressive, cioè non si arriva subito a fare il solista in un'orchestra come questa Ma appunto ci sono una serie di step, di gradi Che sono quelli poi che percorrono i nostri allievi di conservatorio Partendo dai primi saggi, saggi dei primi anni, fino ad arrivare al completamento del percorso decennale Sono dieci anni di studio Vi commissionano una colonna sonora di un film Maestro Scarola, che cosa le piacerebbe accompagnare con il suo modo di fare musica? Che tipo di film? Per quanto riguarda il mio filone gusto musicale, mi si avvicina molto a quella di Ennio Morricone Sì, sì Difatti ho composto vari brani un po' su quello... Su quello stile? Sì, su quello stile Io credo che la chitarra sia adatta a esprimere i moti più intimi dell'anima Quindi in realtà non è un problema di genere, ma è un problema di momenti La chitarra è lo strumento d'eccellenza proprio per esprimere quei chiaroscuri Che in alcuni film di autore francesi, italiani, insomma, sono perfettamente resi D'altronde non è un caso che nelle colonne sonore dei vari film Nei momenti più toccanti, in genere, la chitarra è sempre inserita C'è qualcosa che le piacerebbe interpretare, però non è ancora fatto Che le manca nel repertorio? Tantissima musica, perché il repertorio per chitarra classica ormai è sconfinato Grazie al lavoro dei grandi chitarristi del Novecento, su tutti André Segovia ed altri Ormai abbiamo un repertorio molto importante Quindi in realtà ci vorrebbero molte vite per poter studiare una buona parte del repertorio chitarristico Ci sono tanti pezzi Uno in particolare? Un autore? Ma io credo che Manuel Pons meriti tutta l'attenzione Poi il nostro Mario Castellano Telesco che ha scritto tantissima musica di livello altissimo per chitarra Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro Le Quinte Seguite l'Orchestra di Chitarra di Faia Abbiamo bisogno dell'aiuto della gente che ci segue Ciao, arrivederci Viva la musica e viva la chitarra E con questo è tutto per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com E per le vostre segnalazioni infochioccio e dietrolequintetv.com Arrivederci alla prossima puntata